Siamo con il presidente Ricci del Cervinara con cui andiamo un pochino a parlare dell'ulteriore squalifica al Canada, al campo del Cervinara e della giornata, la seconda di ritorno che si presta a giocare. Iniziamo dalla questione Canada, il Cervinara con le ulteriori tre giornate di squalifica salgono ad otto, non giocherà più in casa nel giornale di ritorno e soprattutto sarà ancora più difficile la rincorsa ai playoff. Quindi sicuramente è una sanzione che va ad influire negativamente sulla squadra e sul morale della cittadina intera. Dobbiamo dire che è un'esagerazione, oltre che il fatto del danno. È un'esagerazione perché otto giornate a porte chiuse mi sembra che da mente locale non è mai successo nessun campo dilettantistico a livello di promozione che io ricordi. Ma la cosa più grave è l'atteggiamento dei giudici sportivi ai quali noi abbiamo fatto un ricorso, ma non era più che un ricorso, era una richiesta di, in un primo luogo, di ripristino della questione della prima squalifica autocolguardia, le due giornate autocolguardia, sulla quale noi abbiamo atti ufficiali dove si prevedeva una giornata e sul comunicato ne erano uscite due. E per quel motivo avevamo fatto un ricorso. Il ricorso era per questo motivo, per le due giornate, quindi la modifica una, per le tre giornate di ruotolo, che sembravano esagerate perché parlava di condotta violenta, che a noi invece dal video che abbiamo non sembra, e poi in terzo luogo automatico la multa di 280 euro. Il giudice sportivo, tranquillamente, prendendo in giro il Cervinara, prendendo in giro tutto il calcio, perché prendendo in giro il Cervinara non è solo il Cervinara che ne paga le conseguenze, ma è tutto il calcio direttantistico perché noi rappresentiamo la federazione, perché siamo noi che facciamo la federazione e siamo noi che diamo i soldi alla federazione per dare il contributo all'AIA per andare avanti e ai giudici sportivi contributi per quando fanno le sentenze e quindi quando si vengono convocate il Consiglio. E quindi voglio dire, beffando il Cervinara ha profeso un provvedimento senza convocarci, ma ci ha convocato soltanto per la multa di 280 euro e ha ripristinato tutto il resto dicendo di confermare le tre giornate a ruotolo e di confermare le due giornate di scuola. Questo per noi è una grossa presa in giro, vuol dire che il calcio sta proprio alla frutta e lo si vede dal ricorso del guardia che sono quattro mesi e che non si riesce ad avere una sentenza, dal ricorso che hanno fatto contro i Renzulli, che so che sono stati depositati ricorsi su una posizione irregolare di qualche calciatore del Renzulli e chi non si conoscono le sentenze. E quindi sentenze che stanno lì e il campionato si complica a San Davidio e adesso l'ultima tecola, questa del guardia, che ha avuto la partita persa 3-0, ma dove è stata chiarita che c'è stata una responsabilità diretta della società guardia e quindi è stata mandata alla Corte federale per prendere i provvedimenti perché c'è sleatà sportiva. Quindi questa questione è delicatissima. Noi ne stiamo pagando, secondo me qualcosa c'è che non quadra contro il Cervinare e siamo qui in attesa, io sono stato con Pastore ieri sera, ne abbiamo discusso un'altra, ma abbiamo chiarito alcune posizioni, vedremo se si può fare qualcosa. Spero di sì, ma non lo so fino a che punto. Archiviamo il calcio da carta e parliamo del calcio giocato. Calcio giocato anche perché il Cervinare sta vivendo un momento particolare e appena 4 punti dei play-out, quindi una seduzione che nonostante la buona prova espressa in campo contro la Forza e Coraggio rischia di precipitare perché non si possono commettere più passi falsi, anche se il sogno resta sempre di agganciare i play-off che oltretutto non è che siano a una distanza siderale, appena 6 punti, quindi sono raggiungibilissimi. Però con tutto quello che abbiamo detto, con una gara che si giocherà domenica al Canada senza pubblico, oltretutto una gara importante e difficile perché sappiamo benissimo che la bisaccese di Mr. Bozzi è una squadra ostica e che viva la giornata può essere tranquillamente la squadra che mette in difficoltà tutti come può essere la squadra che prende diversi gol in una trasferta. Sì, vabbè, di Entra Bozzi, un ex allenatore anche lui del Cervinare, ha fatto bene, abbiamo perso la finale play-off con lui, quindi io ero lì allora dirigente, quindi una persona che stimo e che conosce bene il calcio di lettantistica e uno che ha fatto sempre bene, quindi sarà sicuramente una squadra messa bene in campo e difficilmente da battere, ma noi giocheremo per vincere perché abbiamo bisogno di questioni. Certo, la mancanza di pubblico ci complica molto, noi abbiamo sempre il tredicesimo con il pubblico, questo lo sanno tutti e quindi voglio dire, vedremo, non lo so cosa succederà. Per il resto i play-off sono raggiungibili 6 punti, ma la questione non sono solo i 6 punti che ti mettono lontano dai play-off, è la questione anche che una volta arrivato quinto non devi stare a 10 punti dalla seconda, quindi voglio dire, devono coincidere troppe cose per arrivare in quella posizione. Noi ci speriamo, non è che abbiamo mollato, non molleremo mai, il Cervinano non molla, però voglio dire, si è fatto ancora più difficile, quindi voglio dire, penetrimo, cosa succederà. Chiudiamo questa chiacchierata con il big match di domenica prossima al decreto di Montesarchio, il Montesarchio è secondo con i tre punti che la Lega gli ha dato contro il Guardia, quindi sarà un incontro molto bello, spettacolare, soprattutto che da una parte vedrà la forza e il coraggio, che vuole rifarsi dei quattro golli presi all'andata, dall'altra parte il Montesarchio vuole ritornare ad essere la regina del girone C di promozione, come lo è stato nel girone di andata, quindi sicuramente una gara bella, abbiamo visto la forza e il coraggio che è una squadra sorgnone, capace di sbloccare la gara in qualsiasi momento, ma dall'altra parte un Montesarchio che ha in Valterrusso, veramente oggi uno dei bomber principi del campionato di promozione. Sì, è una bella gara, due squadre che hanno un modo diverso di giocare il calcio, il Montesarchio secondo me è la classica squadra che se ti azzecca la giornata può fare qualsiasi risultato, quindi potrebbe anche vincere con la forza e coraggio, la forza e coraggio ha delle individualità eccezionali, l'abbiamo vista anche domenica contro il Cervinara, voglio dire, non è stata una partita esaltante da parte della forza e coraggio, però due spunti, due gol, voglio dire, letteralmente lì si vede l'individualità, un rigore su Tortora che l'ha cercato, poi il secondo gol di testa sempre con Tortora, che la qualità di testa di Tortora non si discute, quindi voglio dire, due buone squadre, due belle squadre che hanno un modo diverso di giocare a calcio, ma forti e che possono veramente giocarsi una bellissima partita. Io spero che sia una bella giornata di sport, oltre che sia una bella partita, quindi voglio dire, siamo qui in attesa, noi abbiamo il nostro campionato, i nostri problemi, ma sicuramente mi dispiace non poter andare a vedere la partita, perché penso che domenica giochiamo anche noi, quindi loro non so se giocano domenica o sabato, se giocano sabato forse andrò, se giocano domenica mi dispiace, ma non posso partecipare. Bene, chiudiamo questa chiacchierata dicendo subito che la diretta del Cervinara sarà trasmessa da noi di User TV in diretta streaming, mentre per quanto concerne il Montesarchio ci saranno le riprese con un'ampia sintesi della gara, quindi User TV non farà mancare il meglio del calcio della Valle Caudina e soprattutto del cambio di promozione Gironi C. Grazie al Presidente Ricci. Grazie.